Ha portato l'azienda operante nel settore dei prodotti per l'illuminazione al fallimento, distraendo bene per un milione di euro. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato un sessantenne siciliano da anni, residente nel veneziano, per reati di bancarotta semplice e fraudolenta, sia documentale che patrimoniale, per il fallimento della società con sede a Salzano. Aveva sostanzialmente svuotato questa società della provincia di Venezia dichiarata fallita a ottobre 2020, svuotando il magazzino con delle fatture false e con altri artifici, creando sostanzialmente un buco di oltre un milione di euro, ricreando poi una nuova azienda, riportando il nuovo business e ricreando quello stesso business con una nuova azienda, con gli stessi dipendenti, con la stessa modalità della precedente. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia, hanno consentito ai finanzieri di ricostruire le vicende della società a partire dal 2017. L'indagato, in collaborazione con due prestanome, anche se denunciate, non era alle prime armi. Era stata fatta anche per altre aziende in passato, sempre cadute in disgrazia sotto profilo economico, un concordato preventivo, un altro fallimento, per cui avevamo elementi per ritenere che fosse una condotta, un'abitudine questo imprenditore comportarsi in questo modo, per cui far fallire le società decotte lasciando debiti per ripartire pulito con nuove attività. Tra le varie, l'imprenditore ha chiesto anche forniture di gasolio per un totale di oltre 70.000 litri non pagate e che potrebbe aver rivenduto.